Bene cari amici, buongiorno. Oggi 18 giugno 2016, sono le 6 del mattino, sono di nuovo qui a distanza di un anno. In via Melo, fuori dal liceo Scacchi, per rimuovere delle ulteriori scarpe appese ai cavi del filobus. Come siano finite qui sopra, così come gli altri paio di scarpe nella nostra città, non si sa, però adesso le andrò a rimuovere. Sono venuto già ieri, però senza scala non ci sono riuscito, quindi oggi muniti di scala le rimuoverò. Ecco amici, adesso andiamo in via Libertà. Anche le rimuoverò. Anche le rimuoverò. Anche le rimuoverò. Ora non ci sono utile. Grazie a tutti.